Ciao a tutti amici e amiche di Sibirides e benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo seduti su questo fantastico divano e non siamo in sella al nostro CBR in quanto Sankiss si trova in queste condizioni come potete vedere dalla foto è praticamente distrutto in quanto una signora mentre stava andando al lavoro non mi ha proprio visto ma ho preso dalla parte di dietro della moto ho perso il controllo e sono finito sotto una smart come potete vedere da queste immagini quindi approfitto di questo periodo in cui non sto portando neanche video perché appunto non posso utilizzare la moto per effettuare la prima via recensione per chi non sapesse cosa fosse una via recensione può cliccare sulla i in alto a destra che sto scendendo in questo momento per chi invece lo sapesse può continuare benissimo col guardare questo video il protagonista di questo video è lo zaino slipstream di XLMoto molti youtuber famosi tra cui Spawald, Frecciaverde, Zita, Jack Driver e tantissimi altri stanno pubblicizzando questo zaino perché giustamente XLMoto glielo fornisce gratis e tutti ne parlano giustamente bene, non possono parlarne male quindi noi oggi andremo a vedere se questo zaino vale la pena acquistarlo e se rispecchia le caratteristiche che sono elencate sul sito prima di tutto partiamo dalla forma particolare che ha questo zaino e che è la prima cosa che salda subito all'occhio infatti questo zaino è uno zaino aerodinamico, ha una scocca hard shell ovvero rigida il che ci permette di essere protetti in caso di caduta ma molto lievemente perché questo zaino non ha nessuna certificazione, nessuna omologazione non può assolutamente sostituire un paraschina ma semplicemente attutisce il colpo che possiamo avere ma soprattutto protegge anche gli oggetti che noi andremo a metterci dentro infatti questo zaino può contenere anche un pc quindi è più sicuro metterlo in questo tipo di zaino che magari in uno zaino normale la seconda cosa che salta all'occhio sono le grafiche ovvero i luoghi in questo caso il luogo centrale di XLMoto più le scritte sulle due fiancate che sono riflettenti, molto utili in caso di scarsa luminosità quindi sia se siamo in città di sera oppure se siamo in una galleria questo zaino è acquistabile sia con i luoghi di XLMoto che sono questi e sia con i luoghi di Corso infatti Corso è l'azienda che lo produce e XLMoto effettua un rebrand di questo zaino però è possibile acquistare lo zaino con entrambe le colorazioni che poi fondamentalmente sono uguali cambiano solo i luoghi sul sito stesso di XLMoto un'altra particolarità di questo zaino è che è resistente all'acqua quindi praticamente resiste a piegerelline leggere o a schizzi d'acqua ma non agli acquassoni la resistenza all'acqua è aiutata anche dal fatto che la cerniera posta sulla parte posteriore dello zaino quindi questo zaino può essere considerato anche come zaino antifurto è ricoperta praticamente con questo materiale qua che è plastica e aiuta appunto a non far passare l'acqua nel caso lo volessimo usare sotto un'acquazione è consigliabile comunque comprare una di quelle copertine che si mette sugli zaini per rendere impermeabili un'altra particolarità di questo zaino è che ha gli attacchi su petto ecco qua su petto e sulla pancia attacchi che sono molto utili in quanto quello sul petto è regolabile sia in larghezza infatti è possibile allargarlo stringerlo come potete vedere da questa parte qua da questa fibbia ma anche in altezza infatti è possibile sia metterlo su un primo slot e magari spostarlo su e giù come ci è più comodo ma anche metterlo sullo slot inferiore in questo modo abbiamo due livelli di regolazione di altezza mentre per quanto riguarda invece l'attacco sulla pancia è regolabile solamente in larghezza e la particolarità di questa cinta è che l'attacco è posizionato lateralmente è una cosa assolutamente scomodissima attaccarla infatti bisogna essere tipo un contorsionista o altro soprattutto se si hanno indumenti tecnici però è una scelta alquanto intelligente in quanto non essendo sulla parte frontale nel caso avessimo una moto sportiva o comunque una moto dove siamo portati ad andare in avanti e poggiare comunque la pancia sul serbatoio è impossibile graffiarlo un'altra cosa comodissima di queste cinghie è che sono rimovibili quindi nel caso non volessimo utilizzarle le possiamo rimuovere come se niente fosse quindi una e due l'ho rimosso però rimuovendolo lo zaino diventa ingestibile in quanto io lo uso ultimamente per andare al lavoro quindi lo metto in scooter lo uso senza attacchi sia sul petto sia sulla pancia e in città a Roma in scooter non è che raggiungo chissà quali velocità elevate e lo zaino praticamente balla troppo se ne va un po' a destra, un po' a sinistra quindi risulta essere un po' scomodo quindi se dobbiamo usarlo ad alte velocità è sempre consigliabile utilizzarle le spalline inoltre che sono regolabili secondo me non funzionano molto bene in quanto ogni volta che le andiamo a mettere o che togliamo lo zaino dalla nostra spalla come potete vedere lo zaino si praticamente si allenta e questo è alquanto fastidioso perché praticamente ogni volta che ce lo mettiamo e che ce lo togliamo dobbiamo sempre stare a regolare le fascette sia se si indossano abbigliamenti tecnici sia se non si indossano proprio quindi per esempio anche con solo la maglietta quando devi mettere questo zaino le fascette si allentano passiamo ora col vedere gli interni dello zaino ricordiamo che la cernire è posta internamente allo zaino quindi dalla parte della nostra schiena in questo modo lo fa sì uno zaino antifurto ma anche impedisce alle cernire di aprirsi in caso di elevate velocità in quanto ci sono zaini le cui cerniere si aprono come se fosse niente quando raggiungiamo velocità tipo circa 110-120 km orari l'interno dello zaino come potete vedere risulta essere un enorme sacca che riesce a contenere fino a 22 litri di roba come dice sul sito questo purtroppo non l'ho verificato perché dentro ci metto impermeabile caricatore del computer computer, cavetti vari eccetera cioè il necessario per andare al lavoro però possiamo osservare subito il tascone per il computer qua dentro c'è un computer fino a 15 pollici però portare un computer fino a 15 pollici qua dentro è assolutamente scomodo perché nel caso come me io per esempio ho il CBR300 non è che vado molto caricato in avanti con la postazione che c'è perché ho i semi manubri rialzati però mettere un 15 pollici qua dentro è come avere una lastra sulla schiena in quanto stando un po' a ricurvo in avanti il computer appoggio su un unico punto della nostra schiena causandoci dolori e fastidio su lunghi tragitti la storia invece cambia per un computer con 13 pollici che nonostante si sente comunque dà molto meno fastidio rispetto al 15 abbiamo anche un gancetto interno per appendere lo zaino nel caso lo volessimo riporre in un armadio e inoltre sul sito XLMoto ci sono scritte che ci sono tasche intelligenti che in realtà oltre a quale del computer ci sono questi due taschini che secondo me sono inutili in quanto non c'entra né un telefono nel portafoglio nel libretto della moto non c'entra assolutamente magari un pacchetto di fazzoletti e nient'altro ricapitoliamo ora i pro e i contro dello zaino sicuramente tra i pro abbiamo la cerniera interna che come abbiamo detto lo rende sia uno zaino antifurto ma anche impossibile ad aprire ad alte velocità la sua forma aerodinamica in quanto non ci dà alcun fastidio in moto luchi riflettenti fascette per spalle e pancia regolabili e removibili tra i contro invece abbiamo le fasce per le spalle che si allentano un po' troppo facilmente ogni volta dobbiamo regolarle molti lamentano che lo strappo con cui è possibile agganciare e rimuovere le fascette per petta e pancia praticamente dopo un po' cedono e quindi non attaccano più io sono due mesi che ce l'ho questo non mi è ancora successo magari più in là potrebbe capitare un altro contro se proprio lo vogliamo trovare è la non completa impermeabilità dello zaino in quanto è solamente resistente all'acqua e poi tra i contro abbiamo l'inutilità dei taschini interni e anche di un computer 15 pollici che comunque è molto fastidioso passiamo ora al prezzo di questo zaino questo zaino costa di listino 50 euro mi sa che costa tipo 49,90 quindi per comodità diciamo 50 euro però è sempre scontato quindi se ora voi andate sul sito e lo trovate a 16 euro non vi preoccupate perché non è che è scontato come voglia far credere il sito di XLMuto ma praticamente è sempre stato a prezzo più basso del prezzo di listino infatti fino a qualche settimana fa si trovava a 20 euro poi ultimamente è sciso a 16 e almeno una volta al mese lo mettono in sconto a 9,90 euro quindi a 10 euro praticamente infatti io questo zaino l'ho preso fine novembre durante il periodo del Black Friday e l'ho pagato 10 euro più le spese di spedizioni perché effettivamente l'ho pagato in tutto 17 euro poi l'hanno rimesso a 20 perché prima costava 20 poi a Natale è sceso di nuovo a 10 euro a gennaio l'hanno rimesso a 10 euro quindi quello che vi posso dirvi se volete comprare questo zaino non fatemi ingannare dal finto sconto che ci sta sul sito di XLMuto ma magari cercate di aspettare fino a fine mese per vedere se lo mettono in offerta a 10 euro comunque questo zaino è un best buy sia se lo troviamo al prezzo di 20 euro sia se lo troviamo a 15 sia se lo troviamo a 10 perché zaini come questo sul mercato è difficile trovarli su questo prezzo ne ho visto uno che costa per esempio intorno alla cinquantina di euro uno alla settantina di euro di marche più famose che magari hanno o sono più piccoli o magari bisogna comprarli appunto da siti come Gearbest, Banggood o Aliexpress quindi li abbiamo dopo due settimane però dato che al prezzo di 20 euro 16 euro quello che è lo possiamo trovare dall'Italia ben venga per quanto riguarda invece una recensione sul venditore di XLMuto c'è chi si è trovato abbastanza bene e c'è chi come a me si è trovato un pochino male perché io quando ho comprato questo zaino l'ho comprato un giovedì sera avevo messo un indirizzo sbagliato nel senso che quando lo zaino sarebbe arrivato con l'indirizzo non ci stava praticamente nessuno che poteva prenderlo ho provato a chiamarli tutto venerdì gli ho mandato messaggi su Facebook email non mi hanno mai risposto infatti sulla chiamata diceva praticamente che erano chiusi e dovevano ancora aprire però io li ho chiamati mattina, pomeriggio ora di pranzo pure perché magari non si sa mai poi li ho provati a chiamare lunedì sono partito dalla mattina mi hanno risposto intorno all'una e mezza dicendo che avrebbero fatto il possibile per cambiare l'indirizzo e che mi avrebbero fatto sapere il prima possibile il risultato di questo loro intervento ma in realtà lo zaino dopo qualche giorno risultava consegnato dall'indirizzo da me scritto però non ho mai avuto informazioni da XLMuto perché riguarda il loro intervento quindi mi sarei aspettato una chiamata dove mi dicessero guarda abbiamo provato a contattare il corriere ma purtroppo risulta già in consegna quindi non si può fare niente altri invece hanno avuto un'ottima esperienza in quanto gli è stato spedito un altro prodotto senza restituire il vecchio c'è invece chi come mi ha provato a contattare l'assistenza clienti post vendita senza ricevere risposta detto ciò vi consiglio di comprare lo zaino se vi serve uno zaino per moto perché comunque il prezzo è imbattibile e niente ragazzi che altro posso dirvi se avete domande dubbi perplessità me le scrivete qui sotto nei commenti oppure magari mi contattate direttamente su facebook alla pagina di CB Rides sempre qui sotto però in descrizione troverete il link della pagina facebook io sarò là pronto a rispondervi per qualsiasi vostro dubbio e niente spero che questa vi recensione vi sia piaciuta di essere stato il più chiaro possibile sui pro e sui contro magari in descrizione vi faccio un assunto sia dei pro sia dei contro così se non volete rivedervi il video o quindi volete avere subito qualcosa pronto potreste andare a leggere direttamente sotto e noi ci vediamo al prossimo video spero di avere la moto se non ce lo ci rivedremo con un'altra recensione ciao ciao ragazzi ragazzi un'ultima cosa dato che ho intenzione di crescere col canale mentre montavo il video stavo pensando che potevo organizzare dei giveaway dei prodotti che comunque recensisco in questo caso tanto che lo zaino l'ho tenuto per due mesi e mi ci sono abituato regalerò un buon acquisto di 15 euro per comprare lo zaino dal sito di XLMoto per partecipare al giveaway le azioni necessarie da fare sono le iscrizioni al canale il mi piace alla pagina e il commento qui sotto con scritto hashtag voglio lo zaino inoltre mi piace alla pagina facebook che troverete il link in descrizione se poi volete avere più probabilità di vincere rispetto ad altri che faranno solo queste azioni potrete invitare i vostri amici a iscriversi al canale e a mettere mi piace alla pagina facebook e poi naturalmente per un messaggio mi comunicate gli amici che avete inviato in modo tale che io possa andare ad aggiornare il punteggio e anche il programma con cui andrò a fare il sorteggio perché se per esempio una persona compri solo le azioni necessarie avrà una probabilità se invece voi inviterete 5 amici per esempio questi 5 amici si iscriveranno al canale e metteranno mi piace sulla pagina facebook voi avrete 6 probabilità perché le vostre azioni base più le 5 dei vostri amici quindi ragazzi spero che partecipiate molto e mi aiuterete a crescere e che dirvi nient'altro ciao ciao ragazzi grazie 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 grazie